Let's go, go! Non vi sento, Lecce! Per Gustavo! Occhio adesso a quello che arriva, eh, signori! Il capogruppo è lui, Charlie Iacono, Argentina! Che ha tenuto le stilosate per domani sera! E allora! E l'avevi appena detto, a te non ho rinvito le stilosate per domani sera! No, no, ma ti garantisco che le ha tenute perché... Ti ricordi quando... No, ma confermo, confermo! Cioè, fai te! Queste sono tipo... Bravo, era il discorso del fai te! Fai te! Subito arriva un altro pallone! La pressione è alta per lui! Scileno come! La nostra Catalina che abbiamo visto prima nella... Nella finale femminile, anzi, la qualifica femminile! Gli scivola un pallone! E, signori, è la prima volta che succede! Tipo cinque sfide! Può capitare anche i più grandi! Facciamogli un applauso! Guarda adesso come vuole recuperare! Ha un tot di trick che vuole fare e li farà! Oh, spettacolo! Bello che in Cile siano riusciti a portare due finalisti! Una delle poche nazioni che ha avuto questo privilegio, maschile e femminile! E arriva il camion molto spettacolare! Charlie! Credo che... Abbiamo un filo di problemi di... Magari... Di rilassamento, sai, quando sei in cima! Poi però ne viene fuori così, davvero campione! Ma il puro stile freestyle, anche quando sbaglia, fa grandi cose! Charlie! Charlie!